Era l'ultimo weekend di marzo quando è iniziata la stagione regolare 2023 della MLB, siamo adesso a inizio ottobre e dopo 162 partite di battaglia sui diamanti USA abbiamo finalmente i verdetti, abbiamo le 12 qualificate al playoff 2023 e da qui in poi inizia veramente un altro gioco. I playoff sono veramente il momento più bello del meraviglioso gioco del baseball e siamo qui ancora una volta a presentarli partendo ovviamente dalle classifiche della stagione regolare che ovviamente hanno ribaltato tutti i pronosti di noi appassionati della vigilia e adesso siamo pronti a vivere un mese veramente intenso fino al 4 di novembre data delle World Series. Partiremo però in questa prima parte da quello che è successo nella stagione regolare analizzando i record squadra per squadra e vedendo quanto hanno deluso e quanto no a cominciare dall'American League East, una delle divisioni più competitive dell'otto del panorama del baseball e evidentemente già qui abbiamo delle sorprese perché in prima posizione abbiamo i Baltimore Orioles, squadra molto giovane, squadra futuribile ma già concreta. Una parabola incredibile quella di Baltimore che fino a due anni fa erano gli zimbelli dell'American League East con soltanto 51 vittorie all'attivo ebbene adesso ne hanno vinte 50 in più, 101 vittorie e 61 sconfitte, primo posto in divisione qualificazione automatica alle division series dell'American League peraltro avendola meglio di squadre sicuramente sulla carta più titolate ma che sul campo evidentemente si sono dimostrate inferiori. Brandon Hyde, il manager dei Baltimore Orioles, probabilmente il manager of the year di questa lega, ha fatto un lavoro straordinario e 101 vittorie non sono frutto del caso ma frutto di un grande lavoro soprattutto nel creare giocatori di sistema e molto forti ad esempio Santander, Mullins, Ryan Moncastle, Edry Ruchman che è stata una prima scelta assoluta del draft. Insomma tanta carne al fuoco per questi Baltimore Orioles che possono essere una mina vagante della parte del tabellone dell'American League così come lo possono essere senza dubbio i secondi classificati di questa division ovvero i Tampa Bay Rays. Noi ce le ricordiamo all'inizio della stagione i Rays partiti fortissimo vincendo 13 partite consecutive e alla fine ne vincono solo 99 tra virgolette ma comunque altra grande stagione per la squadra di Kevin Cash che come sempre riesce a creare giocatori dal farm system pagandogli uno spropositamente basso numero di dollari e di conseguenza quello che fa Tampa Bay per proporzione rispetto al payroll è qualcosa di allucinante perché parliamo del 26esimo, 25esimo payroll della Lega con squadre che hanno speso molto di più che manco sono arrivate ai playoff 99 vittorie per Tampa Bay 63 sconfitte posto assicurato in wildcard così come la wildcard un'altra wildcard o meglio arriva dall'American League East i terzi classificati sono i Toronto Blue Jays che finalmente riescono a concretizzare in parte le grandi aspettative che ci sono sempre su di loro è la squadra dei figli d'arte parliamo della squadra di Vladimir Guerrero Junior di Bobby Shett di Kevin Biggio insomma giocatori in cui i padri hanno fatto tante belle cose nel mondo del baseball è una squadra che comunque tutte le volte deve formarsi gli manca sempre qualcosa è stata brava Toronto a sfruttare i demeriti di Yankees Red Sox e arrivare in un posto buono per la wildcard Toronto peraltro avrà un accoppiamento non così proibitivo di modo di vedere ma ne parleremo nella seconda parte del video comunque Vladimir Guerrero Junior può avere un'arma di riscatto in più ed è quella dei playoff al netto che Toronto ha un difetto secondo me ovvero il monte di lancio in quarta posizione dell'American League East troviamo i New York Yankees 82 vittorie 80 sconfitte è un record vincente parliamo del sopra il 50% va detto che il record è figlio di moltissimi infortuni in particolare sul monte di lancio perché Carlos Ordon di fatto non si è mai visto si è infortunato anche Aaron Judge e tolto anche il giocatore più forte appunto lo stesso jazz degli Yankees non c'è stato nessun sostituto all'altezza evidentemente del capitano Indy per cui una flessione degli Yankees ci poteva anche aspettare gli infortuni però più gravi appunto ripeto erano sul monte partenti e infatti si è visto come spesso le votazioni degli Yankees tolto Gary Cole possibile e probabilmente certo Siam dell'American League evidentemente non hanno retto evidentemente la pressione di una squadra che ricordo non vince dal 2009 il titolo della World Series in ultima posizione abbiamo i Boston Red Sox che un pochino ci si poteva aspettare che invece potevano essere lì invece comunque hanno fatto una stagione più che dignitosa vero hanno trovato un Masataka Yoshida in stato di grazia probabilmente uno dei migliori giocatori esordienti di questa lega Rafael Devers si conferma tale e quindi ha meritato evidentemente il super contratto firmato in free agency per il resto però non abbiamo avuto quel core che poteva dare manforte ai Boston Red Sox diciamo che per il momento il secondo mandato di Alex Cora sulla panchina dei Red Sox non è propriamente idealiaco tutt'altro passiamo all'American League Central e qui abbiamo una soltanto squadra qualificata ai playoff ed è ovviamente la vincitrice della division ovvero il Minnesota Twins che in questa division al ribasso per il livello delle squadre proposte riesce a emergere con un record presentabile a un certo punto noi ci ricordiamo benissimo come la prima dell'American League Central avesse un record inferiore rispetto all'ultima dell'American League East e invece in questo momento le cose si sono un pochino ridimensionate 87 vittorie e 75 sconfitte per Minnesota va detto però che li garantirebbero nelle altre division qualora Minnesota fosse inserita a est o a ovest il quarto posto segno appunto della incredibile competitività verso il basso di questa division che tolta appunto Minnesota vede delle squadre al di sotto del 50% e non di poco con delle grandissime delusioni non Detroit che sfruttando i demeriti delle squadre che sono dietro arriva in seconda posizione con 78 vinte e 84 perse ma Detroit poteva evidentemente ambire a questo record è ovvio che l'acquisto di Javier Baez non ne è bastato c'è sì Sperkert-Holkerson che è un grande prospetto è una squadra giovane in rifondazione ma è un po' indietro quindi Detroit probabilmente non sarà quella squadra buona l'anno prossimo forse tra due anni ma ovviamente ne riparleremo in terza posizione abbiamo i Cleveland Guardians con 76 vinte 86 perse una delle due grosse delusioni di questa division non evidentemente come chi è arrivato quarto perché vedere i Chicago White Sox 61 vittorie 101 sconfitte è qualcosa che francamente grida vendetta stagione totalmente a sud per la formazione della Southside di Chicago che partiva con ben altre ambizioni e parliamo di una squadra che possiede giocatori del calibro di Jaloy Jimenez la macchina ovviamente Luis Robert, Johan Moncada, tanti giocatori evidentemente però quel monte di lancio che non aveva dato delle buone sensazioni ha continuato a darle per tutta la stagione e infatti si è visto tanto è vero che anche diversi movimenti di mercato hanno visto i Wilds come sellers e non come acquirement in ultima posizione abbiamo invece i Kansas City Royals che comunque possono disporre di un Bobby Weed Junior in stato di grazia uno dei migliori prospetti del futuro di questo gioco ma per il resto veramente poca roba è passato in linea anche a Roldis Chapman che infatti è stato immediatamente venduto al miglior offerente alla threat deadline e infatti si è visto come Chapman abbia fatto le fortune dei Texas Strangers che comunque hanno agguantato la qualificazione ai playoff e parliamo appunto di questa division dell'American League West perché delle cose sono successe perché c'è stato il grande duello tra Houston e Texas e alla fine Houston per la differenza degli scontri diretti se non ricordo male a passare come prima classificata della divisione nonostante il record sia esattamente speculare per entrambe le formazioni texane 90 vittorie e 72 sconfitte per entrambe Houston è stata in testa alla divisione per soltanto 24 giorni ma ha fatto la Houston Houston complice una streak finale di 4 vinte di fila evidentemente la squadra di Dusty Baker ha fatto quello che doveva fare e attenzione perché una volta che Houston arriva ai playoff sono sempre la solita bella bega non dico la squadra da battere in American League ma ci siamo veramente vicini Texas invece concretizza d'altro canto una grandissima campagna acquisti con Di Grom con Scherzer anche nella threat deadline con lo stesso Chapman insomma un core di lanciatori che è andato a rinforzare gli acquisti passati Simien, Corey Seager e quant'altro peccato perché Texas probabilmente meritava di arrivare in prima posizione nella divisione ma ovviamente non ci è arrivata complice anche la streak finale che ha riguardato Houston contro Seattle che peraltro ha perso la wild card di una solita partita ed è un peccato perché Seattle ad un certo punto era sparita dalla circolazione si è risollevata con un mese di luglio e agosto fantasmagorico chiedere a Julio Rodriguez per informazioni ma alla fine per una sola partita Seattle è fuori dai playoff 88 vinte, 74 perse, Toronto ricordiamo si è qualificata con 89 vittorie e questo fa un pochino male anche a me che da un certo punto di vista simpatizza anche i Mariners seppur tifo una squadra della National League East di cui però parleremo in modo approfondito più avanti Seattle comunque ha fatto una stagione molto positiva a differenza di chi è arrivato dietro i Los Angeles Angels con Anaheim infatti sono quarti con 73 vittorie, 89 sconfitte è l'ottava stagione consecutiva per gli Anaheim Angels sotto il 50% di vittorie ed è l'ennesima stagione sotto il 50% di vittorie con Trouto e Otani nella stessa squadra Otani peraltro sappiamo che si opererà, meglio si è già operato nel momento in cui registro questo video e dovrà evidentemente aspettare il decorso post-operatorio sicuramente rientrerà l'anno prossimo nel 2024 di certo non agli Angels perché ricordiamo l'unicorno è free agent ma sarà appetibile solo come battitore disegnato a lanciare lo rivedremo nel 2025 ma ancora una volta fa spavento e specie non vedere né Trout né Otani ancora una volta ai playoff nonostante gli investimenti agli Angels ci siano stati peraltro è notizia recentissima che Phil Nevin allenatore degli Angels non sarà riconfermato chiunque vada agli Angels evidentemente come allenatore ha veramente vita breve ultimi sono gli Oakland Athletics non ci aspettavamo niente di diverso dalla formazione che un domani andrà a Las Vegas ma appunto per Las Vegas se ne riparlerà nel 2028 e non è una battuta bisognerà capire dove giocheranno gli Athletics dal 2025 al 2027 perché il contratto al Colusium finisce nel 2024 e ovviamente non sarà rinnovato quindi sarà un periodo di transizione di un mercato molto poco appetibile peccato perché Oakland in passato è sempre stata una squadra comunque con il sistema della sabermetrica primi nella storia ad applicarlo avevano portato dei playoff diventati molto di livello e invece adesso è purtroppo una squadra che rientra nella voce quello che resta di passiamo adesso alla National League East per arrivare dall'altra Lega e completare la panoramica delle 30 squadre ovviamente l'American League East o meglio la National League East l'hanno vinta gli Atlanta Braves 104 vittorie per la migliore squadra della Lega una squadra, un rullo compressore meglio bisognerebbe chiamarla perché hanno un molti di lancio fantasmagorico hanno un attacco altrettanto fantasmagorico chiunque può battere fuori campo un all-up pericolosissimo dal primo al nono spot e infatti 104 vittorie alla faccia di me che diceva che evidentemente gli Atlanta Braves non erano evidentemente come l'anno scorso ebbene sono stato smentito clamorosamente anche perché la mia squadra è finita after the music Atlanta, questa parte del tabellone della National League è probabilmente la favorita per vincere il titolo al netto che è vero che nei playoff può sempre studiare di tutto però questa Atlanta sulla carta è più o meno infermabile a meno di cose clamorose ma ovviamente sappiamo che i playoff ci regalano sempre grosse emozioni così come nell'American League East tre squadre sono arrivate ai playoff nella National League East è la stessa cosa perché Atlanta vince la divisione e ha il bye per il turno successivo Philadelphia e Miami hanno le due wild card la prima appunto ce l'ha Philadelphia come miglior classificata 90 vittorie e 72 sconfitte per una squadra che è partita in ritardo con BC appunto gli infortuni gravissimi di Rissoskins fuori per tutta la stagione e Bryce Harper che è rientrato a maggio dalla Tommy John Surgery qualcosa di clamoroso come rientro per un giocatore di movimento eppure Philadelphia ha dimostrato di essere veramente completa una bella squadra, una bella bega a questi playoff che qualche strada secondo me la potrà fare grande sorpresa invece sono i Miami Marlins che non solo hanno la superstar copertina del gioco del video show del 2023 cioè Just Season, Milba Amens ma ci hanno aggiunto Luis Arrice che è stato il primo giocatore a vincere sia nell'American League che nel National League il titolo di miglior battitore con una media battuta clamorosa oltre 350 qualcosa di mai visto in tempi recenti e per il resto abbiamo giocatori di un certo livello vedi per esempio Jacob Berger arrivato dai Chicago Whites giocatore di sistema Sandy Alcantara purtroppo salterà la postseason e questa è una grave perdita per Miami ma comunque non è una squadra che parte battuta una gran bella sorpresa, qualificazione meritata Miami ha avuto la meglio della squadra che tifo ovvero i New York Mets che evidentemente sono insieme ai San Diego Padres la più grande delusione di questa stagione 2023 della National League e della Lega in generale del Baseball perché i Mets hanno speso veramente l'inverosimile Steve Cohen è anni che fa degli investimenti e dopo la grandissima stagione scorsa dove siamo arrivati ai playoff con oltre 100 vittorie siamo usciti è vero prestissimo al primo turno contro San Diego il problema è che una storia del genere dovrebbe darti in là il rimbalzo positivo per arrivare evidentemente ancora più in alto prendi Scherzer, confermi Scherzer meglio prendi Verlander, ti aspetti evidentemente qualcosa in più e invece no, una delusione totale infatti i Mets hanno venduto chiunque per liberare di spazio salariale e evidentemente puntare al free agency, al bersaglio grosso anche se in questo momento New York è poco appetibile sponda Mets comunque 74 vittorie, 87 sconfitte stagione andata a sud già a luglio non c'è altro da dire i New York Mets sono la più grande delusione insieme ai Padres della Lega ed è giusto ribadire il concetto ultimi sono i Washington Nationals che ci sta, che stiano lì 71 vittorie, 91 sconfitte da quando hanno venduto sotto evidentemente i Nationals sono in rifondazione completa comunque è una squadra che ha già fatto molto più delle aspettative quindi non è un ultimo posto da buttare qualcosa a Washington si può evidentemente tornare a costruire passiamo adesso alla National League Central che come evidentemente la central dell'American League ha soltanto una qualificata ai playoff ed è la vincitrice della division ovvero i Milwaukee Brewers che è delle tre vincitrici di division è quella peggiore ma comunque ottimo record 92 vittorie e 70 sconfitte per una central che ha rischiato comunque di avere due squadre qualificate ai playoff i Chicago Cubs infatti arrivano in seconda posizione ma mancano la wildcard per una sola partita esattamente come i Seattle Mariners di Julio Rodriguez 83 vittorie e 79 sconfitte per una squadra che francamente ha sorpreso perché è vero che i Chicago Cubs sono giovani e di prospettiva vedi per esempio i giocatori come Christopher Morel ma comunque hanno puntellato con degli acquisti di primo livello vedi Desby Swanson vedi Cody Bellinger insomma non è una squadra da buttare via hanno già fatto bene quest'anno se l'anno prossimo puntellano ancora un po' possono competere evidentemente per il titolo della Central Division della National League che ha sorpreso ulteriormente invece sono stati i Cincinnati Reds 80 vittorie e 80 sconfitte hanno mancato la postseason di due partite come i San Diego Padres ma a differenza di San Diego Padres si è insegnati di fatto a una squadra costruita in casa soprattutto per il fatto che da quando è arrivato Ellie della Cruz i Reds hanno svoltato a un certo punto hanno addirittura primi in division davanti a Milwaukee sono un po' calati è vero ma comunque grandissima stagione per una squadra che da anni viaggia nell'anonimato più totale ed è evidentemente una squadra anche questa rifondazione probabilmente adesso hanno trovato la quadra speriamo che possano tornare ai fasti di un tempo quarti sono stati i Pittsburgh Pirates nella National League Central 76 vittorie 86 sconfitte stagione non da buttare comunque perché sappiamo che i Pirates erano in prima posizione a un certo punto alla partenza all'All Star Weekend dopodiché hanno un po' calato le marce ma era giusto così comunque attenzione perché i Pirates potrebbero se investono bene arrivare ancora una volta in zona wildcard insomma una bella squadra a Pittsburgh chi dovrà sicuramente riscattarsi l'anno prossimo è St. Louis la seconda squadra più trattata del gioco non arriva ai playoff neanche stavolta e non ci arriva neanche vicina perché parliamo di 71 vittorie 91 sconfitte una scottagione disastrosa per St. Louis che non ha una squadra comunque di fermoni perché parliamo dei Cardinals di Arenado, di Goldschmidt, di Tyler O'Neill di Nolan Gorman di giocatori di livello c'è stato Wayne Wright che ha fatto un altro anno secondo me doveva ritirarsi un anno fa insieme a Javier Molina certo comunque che anche l'assenza del portoricano si è sentita e come anche nel ruolo di ricevitore vero hanno preso Wilson Contreras per l'attacco ma comunque l'apporto che dava Molina era nettamente superiore anche dal punto di vista tecnico-difensivo rispetto a Contreras che è più un attaccante che un difensore comunque anche St. Louis delude e non poco all'ultimo posto e fa molto specie ricordiamo dopo gli Yankees i Cardinals sono la squadra che ha vinto più titoli del mondo MLB 12 World Series vinte contro gli Yankees che ne hanno vinte 27 chiudiamo la panoramica della regular season con la National League West dove i Dodgers sono fatti i Dodgers e hanno vinto ancora una volta questa divisione decima affermazione delle ultime 11 stagioni per la formazione di Dave Roberts che a un certo punto non era neanche prima era seconda complici grandi Arizona Diamondbacks che hanno fatto veramente la stagione della vita ma comunque i Dodgers sono nettamente più forti di probabilmente chiunque questa squadra affronti in divisione nella National League West e infatti abbiamo una qualificazione ancora una volta ai playoff e i Dodgers ovviamente hanno fatto quello che dovevano fare sorprendono gli Arizona Diamondbacks che nessuno si aspettava nelle primissime posizioni sapevamo che un po' come Detroit come Chicago Cubs erano delle squadre in rifondazione giovani e di prospettiva certo però Arizona ha concretizzato molto bene un po' come Baltimore dalla parte della Lega Arizona non ha vinto la divisione è arrivata comunque seconda attenzione perché Arizona ha un coro di giocatori molto interessanti il mio idolo Zach Gallen che probabilmente ha fatto la grande stagione della vita nel 2023 il rookie of the year Kobe Carroll non lo scopriamo di certo oggi McCarthy per domani insomma grande e bella squadra quella dei D-backs giovane e di prospettiva che ha avuto la meglio rispetto ai San Diego Padres che insieme ai New York Mets ribadisco sono la più grande delusione della stagione 2023 prendete il Pejet in Champions League squadra faraonica costruita con i turbo dollari benissimo prendete San Diego Padres applicate il concetto del Pejet che spendono un sacco di soldi e non vincono mai ai San Diego Padres perché ancora una volta questa squadra di campioni perché parliamo di tali Fernando Tatis Xander Bogers Manny Machado per dirne alcuni insomma è una squadra che fa paura Juan Soto per esempio Blake Snell che probabilmente vincerà il Seguin della National League Josh Shader insomma squadroni da All-Star Game che prendono la paga da mezza Lega e non arrivano neanche ai play-off non basta la streak di 5 vittorie di fila per chiudere la stagione di 8 vinte nelle ultime 10 San Diego è fuori dai play-off e delude clamorosamente in questa stagione qualcosa di veramente clamoroso in quarta posizione abbiamo i San Francisco Giants 79 vinte 83 perse che hanno licenziato peraltro Gabe Kepler l'allenatore a due partiti dalla fine per una stagione ancora una volta a sud così come a sud sono andati colorato Rockies ma ovviamente non si poteva aspettare diversamente 59 vittorie 103 sconfitte record praticamente similare ai Chicago Whitehawks altra delusione della Lega tutto questo alla fine ha comportato il seguente piazzamento delle wildcard e qui andiamo a vedere quello che ha recitato il campo MLB le tre vincitrici dell'American League ovviamente delle divisioni sono i Baltimore Orioles a est Houston Astros a ovest e Minnesota Twins al centro le tre wildcard sono in ordine di record Tampa Bay Texas e Toronto per quanto riguarda invece la National League gli Atlanta Braves vincono la National League East e hanno il bye insieme ai Los Angeles Dodgers e Milwaukee Brewers invece affronteranno al primo turno le wildcard series e ovviamente le altre tre squadre qualificate per completare il tabellone della National League sono Philadelphia Phillies Miami Marlins e gli Arizona Diamondbacks tutto questo per completare un tabellone playoff che andiamo a vedere e qui entriamo nella seconda parte del video per presentare ancora una volta questi playoff e azzardare i nostri pronostici che puntualmente verranno sminchiati dal giorno 1 che peraltro ricordo essere stasera ovviamente le partite saranno trasmesse in Italia per quanto riguarda Sky Sport e ovviamente arriveranno aggiornamenti a riguardo parliamo però di questo tabellone perché dall'anno scorso ricordiamo che le squadre sono aumentate ed è cambiato anche il format del playoff 2023 playoff molto più fruibili e molto più belli funziona così abbiamo visto il tabellone dell'American League e della National League con le qualificate dalla regular season ai playoff le due migliori squadre che hanno vinto le divisioni sono automaticamente qualificate alle division series quindi da una parte Baltimore e Houston dall'altra Atlanta e Los Angeles la terza vincitrice della division ovvero in questo caso da una parte Minnesota e dall'altra Milwaukee passano dal primo turno eliminatorio le wildcard series e da qui si segue il tabellone la terza affronta la sesta del seeding e la quarta affronta la quinta si formano così due grandi accoppiamenti da una parte Minnesota-Toronto per l'American League e Tampa Bay-Texas Rangers grande serie questa dall'altra parte abbiamo Miami Marlins scontro Philadelphia-Phillies scontro nella division dell'America della National League East e dall'altra parte Milwaukee scontro Arizona-Diamond-Bex possiamo dare subito dei pronosti perché sono delle partite e delle serie molto interessanti ricordo che il primo turno si svolge al meglio delle tre partite quindi la squadra che ne vince due passa al turno successivo chi ne perde due è eliminata se dovessi fare un pronostico posso dare subito un bellissimo upset per quanto riguarda la division dell'American League la Wild Card Series dell'American League meglio con un bel upset di Toronto su Minnesota vedo Toronto vincere in due perché comunque sono qualificati ai playoff sono arrivati forte in una division competitiva e la mentalità fa tanto quindi Minnesota non la vedo benissimo perché appunto si è qualificata sì ma in una division meno competitiva già vedo un bel upset Toronto batte Minnesota 0-2 la serie invece che finirà in tre partite quindi alla bella è sicuramente quella tra Texas e Tampa Bay una Tampa Bay che è abituata ad arrivare ai playoff ha un po' il dente avvelenato perché vincere 99 partite non arrivare prima in division è qualcosa che può far male ma questa rabbia poi sarà tramutata evidentemente in agonismo positivo e Texas è una squadra che è stata costruita per arrivare ai playoff e c'è arrivata sarà una serie molto bella e molto equilibrata vedo comunque Tampa Bay vittoriosa in tre partite dall'altra parte abbiamo un Philadelphia Miami che secondo me storia non ne ha Philadelphia più forte e vedo un upset o meglio un sweep di Philadelphia 2-0 su Miami Milwaukee Arizona invece è una serie molto molto bella è più equilibrata di quanto sembri perché Milwaukee ha un attacco suntuoso Arizona non è da meno ha un monte di lancio peraltro incredibile aspetto di vedere Zaccaria all'opera ancora una volta per sorprenderci contro i Brewers da questo accoppiamento secondo me potrebbe uscire la squadra del destino c'è sempre una formazione che evidentemente fa la cavalcata inaspettata da una parte potrebbe essere Baltimore che ha vinto la divisione in maniera prorompente e non se l'aspettava nessuno chi vince lo scontro tra Milwaukee e Arizona secondo me potrebbe fare la stessa cosa perché arrivi con una carica mostruosa vai ad affrontare i Dodgers nella division series e evidentemente qualora fosse Arizona sarebbe un bello scontro dell'American League West io propendo su Arizona in tre per una division series Arizona Los Angeles Dodgers Philadelphia Atlanta poi dall'altra parte Toronto Houston e Tampa Bay Baltimore andando avanti in eventuali pronostici dovesse esserci una serie tra Toronto e Houston vedo Toronto perdere in tre barra quattro partite ricordo che le division series sono invece delle cinque partite quindi chi ne vince tre passa al turno successivo e chi ne perde tre va a casa Baltimore Tampa Bay invece qualora fosse questa la division series sarebbe una serie bellissima al meglio delle cinque partite che finirebbe secondo me in cinque con Tampa Bay vittoriosa quindi si riproporrebbe ancora una volta una semifinale di conference dell'American League Tampa Bay Houston dall'altra parte in National League Los Angeles Dodgers contro Arizona Diamondbacks potrebbe regalare tante sorprese vedo una serie al meglio delle cinque partite dall'altra invece Atlanta avrà la meglio su probabilmente chiunque li cipare davanti che sia Miami che sia Philadelphia e Atlanta la vedo già proiettata nella National League Championship Series se dovesse succedere un Atlanta Arizona nelle Championship Series vedo un Atlanta sui parli facilissimo al netto che ripeto secondo me chi esce tra Arizona e Milwaukee può fare la squadra del destino e potrebbe arrivare evidentemente in finale anche se invece qualora i Los Angeles Dodgers arrivassero alle finali li vedo leggermente meglio rispetto ai Braves in una serie che spero finisca alla settima partita per la cronaca la mia finale è Tampa Bay Los Angeles Dodgers per la rivincita della stagione corta dove Los Angeles vinse in sei partite ma questa volta dopo una stagione completa con tutti gli effettivi vedremo se i miei pronosti ci saranno rispettati ma ovviamente lo scopriremo man mano in questo cammino dei playoff perché evidentemente da qui in avanti fino al 4 novembre giorno delle World Series arriveranno sempre dei video riguardanti i playoff del baseball a ogni fine turno ci sarà il recap di quello che è successo per vedere se i miei pronosti sono stati rispettati o meno di conseguenza ottobre è un gran bel mese per il canale sportivo del baseball peraltro questo video che avete ascoltato lo potete recuperare anche in formato podcast è stato aperto al profilo Spreaker link in descrizione evidentemente anche su tutti i miei social Instagram in particolare anche lì ovviamente seguitemi per rimanere sempre in aggiornamento insomma siamo già entrati nel mood dei playoff e ovviamente aspetto anche voi per opinioni e conveni sulla vostra squadra del cuore in questa Road to World Series 2023 il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo un prossimo video un prossimo video